Mi scuso per il ritardo, nel senso che io arrivo da Roma come tu sai e oggi abbiamo discusso delle solite partite, il titolo quinto della Costituzione che significa in soldoni che vogliono svuotare di competenza le regioni e che significherà che tra qualche anno che ospedali aperti di notte sarà Roma che decide come dovranno curarsi i Veneti tanto per dire. Quindi qua in Sordina si sta discutendo una partita che è importante, però volevo anche ringraziarti, non lo faccio per piageria perché io vedo la tua agenda dei lavori, io penso che tu non perda solo la voce se va avanti così, cerca di... no no ma lo dico, lo dico, lo dico, come si dice delle mie parti vai a casa prima la sera e grazie per quello che fai adesso al di là delle battute, grazie perché la Lega aveva bisogno... aveva bisogno di una botta di vita e quindi è arrivata. Dico due robe, c'è un convitato di pietra, io ad adiuvando le dico queste robe sull'euro, penso che il convitato di pietra sia quella parte d'Italia che è tecnicamente fallita, perché noi non saremmo qui a fare discorsi sull'euro se non avessimo mezza Italia che ha i libri da portare in tribunale, che è fatta di fannulloni, di cialtroni, di gente che si mangia tutto quello che il Nord produce, perché è quello del quale dobbiamo discutere. Lo dico e lancio, mi permetto di lanciare uno spunto a Professor Borghi, penso che ci sia una partita che è stata un attimo trascurata, potremmo dire, le faccio la domanda, che il Nord starebbe tranquillamente nell'euro se non ci fosse il Sud Italia, punto di domanda. Ovvero, la verità è questa, io penso che noi abbiamo un problema paese che è un problema irrisolvibile, che dovremmo cominciare a mettere i puntini su lei, che dovremmo anche dire che benvenga la lira, ma nel momento in cui avremo la lira ci resta la palla al piede, perché è una palla al piede che comunque noi ce l'abbiamo. Lo dico perché noi veneti siamo meglio della Baviera, noi non abbiamo nulla da invidiare i tedeschi, però è altrettanto vero che il momento è questo. Dall'altro, vedendolo dal mio osservatorio, penso che c'era Scuola, che adesso ce l'avete voi, il Cardinale Scuola, Scuola diceva che questa è una crisi delle coscienze, oltre che sia una crisi economica. Io ci metto anche che è una crisi del modello democratico. Questo modello di democrazia non funziona più, questo modello di democrazia non funziona più, è la democrazia dei veti, è la democrazia dei tecnocrati che comandano a prescindere dal fatto che non siano stati votati, perché poi questo è quello che ci troviamo davanti. È la democrazia della Banca d'Italia che decide, noi avremo un'assemblea sabato mattina, abbiamo il terzo polo bancario italiano che è Veneto Banca e Banca d'Italia manda gli ispettori e decide che dobbiamo cambiare l'amministratore delegato, il presidente, tutto il consiglio di amministrazione e noi ovviamente non stiamo lì suppini ad accettare queste cose. Io ho l'impressione che dovremo fare una grande battaglia che non si concluderà solo con il no euro, con la partita del no euro. Noi siamo pronti, abbiamo le amministrazioni. Dico un'ultima cosa, lo dico bene, approfitto, qua c'è l'80% dei dirigenti della Lega e la regione, eccolo qua Caner, la regione ha un provvedimento che sta portando avanti sull'indipendenza, però è una roba seria, nel senso che il sentimento dell'indipendenza e dell'autonomia è ubiquitario, cioè è diffuso tra i 5 milioni di veneti. Dico indipendenza perché significa la secessione del Veneto dall'Italia e l'autonomia perché significa avere uno statuto come quello che hanno a Bolzano. 9 decimi del tasso e restano qui. Il Consiglio regionale interessato a questo sono sei mesi che hanno la legge in discussione. Voglio dire che noi non è che siamo gli ultimi arrivati e che rincorriamo qualcuno. Lui ha avuto ragione prima di noi, ci battiamo perché 24 persone devono essere processate le loro idee. Però è altrettanto vero che, lo dico ai militanti, in una riunione anche di dirigenti, che è bene sapere che quello è il nostro marchio. Quando si leggono, quando si legge giustamente, io penso, Matteo ho detto una cosa poi chiudo, penso che nel prossimo, la fortuna abbiamo una fortuna, fra dieci mesi in Veneto si va a votare. Quindi io spero che fra dieci mesi non ci siano forze extraparlamentari in Veneto. È bene che tutti espongano le proprie idee, si organizzino, facciano la campagna naturale che vogliono, si allenano con chi vogliono, però alla fine il Veneto dovrà avere una nuova coalizione, una nuova squadra ed è bene che siano rispettate le idee di tutti. Però è altrettanto vero che dobbiamo prendere atto anche che c'è chi dice che correrà contro di noi. Finito il momento di salvataggio e poi ognuno va per la sua strada. Non è che sbaglia la strada. Attenzione che noi non abbiamo mai sbagliato la strada. Tutto qua. Grazie, buonasera a tutti.